Devo il punto di... ... 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 io ho detto, ma di quello che dovete fare, il dato non è finito, la seduta non è finito, non è finito, non è finito, non è finito, lo tolgo, state imbavagliando e per conto sono iscritto su questo parlatorio, hai firmato i mandati di pagamento, anche le cooperative che sono cooperative, che sono associate a un consorzio come un tuo assessore e vicepresidente, non mi interessa, lui doveva stare sotto i mobili, è un'ambizione profonda di controllare e controllare, non lo so, 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 che è legale, io ho detto c'è un problema di natura politica, io non ho detto che è legale, nessuno ha detto, io lo considero la materia nostra, perché ti spiegherò quali sono le contrattive, e questo finto buonismo, questo finto buonismo... L'intera maggioranza ha votato contro la repubra della delibera di giunta, il gruppo dei liberi uguali è favorevole all'accoglienza dei 12 minori stranieri non accompagnati, ed intende proseguire questa linea, in quanto oltre all'accoglienza si dà anche la possibilità di ristrutturare un immobile di proprietà dei beni comunali. Ed è un percorso quello già lancionato dal Comune di Gwinsi, da questa amministrazione, quello di recuperare altre strutture che sono presenti nei... Il compito di questa amministrazione, come già detto anche in campagna elettorale, sarà quello di recuperare le varie strutture di proprietà del Comune sparse per la città e al momento... ...di accoglienza per i migranti, ormai conosciamo tutti la vicina dell'ex delegazione del Casale, Massimo Ciullo, lei ha ribadito la sua personale, ma soprattutto quella di tutte le forze dell'opposizione, delle contrarietà, diciamo evidenziando i punti anomali anche della delibera. Sì, i punti anomali ce ne sono tantissimi, sono stati esposti, ma soprattutto credo che questa non sia stata un'ottima decisione da parte dell'amministrazione comunale. Io credo che Gwinsi, oltre ai suoi problemi, registra anche una numerosa presenza di migranti, aggiungerne altri in un contesto che è caratterizzato da varie problematiche, io credo che non sia il piede migliore per cui questa amministrazione abbia iniziato il suo cammino. Da parte della Lega, per il tipo che rappresento, ma vedo che anche le altre parti dell'opposizione sono sulla stessa linea e c'è la netta contrarietà e abbiamo chiesto che il Sindaco regochi questa delibera, che non significa semplicemente per noi della Lega dire no agli immigrati al Casale, ma no ad altri immigrati in tutte le parti della città. Mi è evidenziato un fatto molto importante, credo che sia condiviso dalla comunità del Brindisi, un'amministrazione deve porre la propria attenzione verso tutte le realtà seriferiche, tutti i quartieri, in un senso di solidarietà che deve essere condiviso e quindi è un problema di apertura, o possibile apertura delle delegazioni comunali che interessa a vari quartieri. Sì, appunto, quei siti, quegli edifici andrebbero recuperati alla città e ai Brindisi e consegnarli all'accoglienza dei migranti, significa praticamente perderli per quanto riguarda la possibilità di erogare servizi ai cittadini, ma al di là di questo io credo che ormai su tematiche come quelle dell'accoglienza migranti devono essere scelte che vanno condivise a priori con le stesse comunità che li dovrebbero studiare. Anche riferimento alla posizione anomala dell'assessore Copolo? Non è che lo dico io, l'assessore Copolo è il vicepresidente del consorzio Nuvola, lo dice una visura camerale, chiunque sia può andare in camera di commercio, allora lo possiamo fare i dottori commercialisti utilizzando un sistema informatico, basta scaricare e vedete che tra legali e sociali, chi è il presidente e il vicepresidente? Il vicepresidente è l'assessore Copolo, che è l'assessore alle politiche giovanili e della comunità nazionale cronica del comune di Brindisi, quindi nulla di strano se non fosse il fatto che le cooperative associate a questo consorzio Nuvola lavorano per conto del comune di Brindisi, guarda caso nel servizio di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Ovviamente anche qui nulla di strano, nulla di illegale in punta di diritto, però la cosa fa specie per il fatto che c'è evidentemente una incompatibilità, oltre che morale e politica, non si può essere allo stesso momento controllore e controllato. Parliamo di un esponente della Giunta che ne ha fatto della trasparenza e della legalità, andiamo alla Sassonia, un cartine nella propria campagna elettorale. Forse sarà sfuggito all'assessore Copolo e al sindaco, quello che ha nominato, che lo stesso svolge una funzione amministrativa, una funzione importante, un amministratore in un consorzio all'interno del quale le cooperative sono finanziate da alcuni di Brindisi. Se questo è normale, va bene, a questo punto abbiamo sbagliato il mestiere. Per quanto ci riguarda, seppur non ci siano problemi di natura penale, io non ho mai letto questo, ma sicuramente è una forma di incompatibilità politica sostanziale, oltre che formale, però anche su questo probabilmente poi chiederemo conto al segretario generale se non ci sia anche una forma di incompatibilità oltre che sostanziale e formale.